La felicità non è una condizione costante ma piuttosto un equilibrio emotivo che fluttua tra alti e bassi. Ma ci sono tre elementi che contraddistinguono la felicità. Numero 1 relazioni significative. Ad esempio trovi gioia nel condividere delle esperienze per te importanti con altre persone. Anche quando ti senti capito e amato è una parte della felicità. Numero 2 apprezzare la vita. Chiaramente non è facile per nessuno vivere però puoi notare ad esempio la bellezza della natura. Anche quella è una piccola parte di felicità. O cogliere delle opportunità di crescita personale attraverso l'aiuto di altre persone. Oppure quei momenti che ti fanno sentire vivo. Numero 3 equilibrio emotivo. Vuol dire che a prescindere dagli alti e bassi della vita tu rimani costante. Non vuol dire reprimere le emozioni. Accetti le sfide e impari a gestire le difficoltà e a godere dei momenti di gioia. Io definisco la felicità una danza emotiva che si sviluppa attraverso i punti che ho citato precedentemente. Ad ogni modo è un viaggio personale la felicità e la puoi e la devi coltivare giorno per giorno. Ricordatelo.